La giustizia amministrativa non come apparato di potere ma servizio ai cittadini, alle imprese, alle amministrazioni, un servizio che ha i suoi punti di forza nell'indipendenza, nella professionalità e nelle responsabilità dei giudici. In occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Palazzo Spada, alla presenza del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il presidente del Consiglio di Stato, Pasquale Delise, ha difeso l'efficienza del sistema che, a dispetto dei mali del settore, può vantare tempi rapidi e nonostante l'arretrato un aumento di produttività. Delise ha messo in guardia da critiche strumentali che bollano i giudici amministrativi come una super cassa e ha auspicato un dialogo costante e costruttivo con la giurisdizione ordinaria. Infine un plauso al Governo, sia per la riforma della pubblica amministrazione, sia per le liberalizzazioni giudicate una leva forte di politica economica.